Eccoci qui e ben ritornati in un altro nuovo video. Qualche giorno fa ho parlato di alcune particolarità della serie di Naruto che non ci sono state spiegate proprio perfettamente. Infatti in un precedente video ho parlato della modalità eremitica di Minato Namikaze. Ma ci sono veramente tante ma tante cose da dire soprattutto per quanto riguarda l'ultimo arco narrativo di Naruto Shippuden. L'improvviso arrivo di Minato nella quarta guerra ninja è accompagnato da alcune perplessità. Quasi come detto prima tutte relative ai suoi poteri che non erano mai stati visti prima. Quindi oltre alla modalità eremitica abbiamo un altro potere che si è aggiunto e che ci ha fatto pensare ma questo qui come ha fatto a ottenere questo potere? Ebbene sì sto parlando della modalità chakra della volpe. Minato ha messo in campo ogni sua conoscenza ninja per cercare di fermare Obito. Raggiungere la modalità chakra del cercoterio è un'impresa che solo poche forze portanti sono state in grado di ottenere solitamente dopo un lungo addestramento. Invece Minato ha ottenuto questa modalità dopo pochi minuti dall'essere stato resuscitato con l'Edo Tensei in cui è diventato forza portante della metà yin della volpe a nove code precedentemente sigillata nel sacrificio per salvare Konoha. E qui fermi tutti. Sebbene potrebbe sembrare un buco di trama c'è una spiegazione che potrebbe essere logica. Che potrebbe rendere la modalità chakra di Minato apparentemente ben pensata invece di un fan service di Naruto. Bisogna comunque dire che il fatto che lui sia una forza portante inizialmente non salta proprio all'occhio. Soprattutto perché la metà di Kurama sigillata all'interno dello Shinigami con il sigilo del diavolo e successivamente in Minato non era mai stata spiegata adeguatamente prima della sua ricomparsa. Minato diventa forza portante pochi minuti prima di essere sigillato all'interno dello stomaco dello Shinigami. Sigillando quindi la metà yin dentro di sé e la metà yang dentro il corpo di Naruto. Dal momento che i due erano sigillati insieme all'interno del corpo dello Shinigami il rilascio del sigillo ha mantenuto insieme Minato e Kurama mantenendo quindi intatto il suo status di forza portante. Ma l'Edo Tensei di Minato è molto diverso dalle solite resurrezioni. Non avendo di per sé mai raggiunto chiamiamolo il paradiso o il limbo per via dello Shinigami. Significa di fatto che lui e Kurama non si sono mai separati. La morte di una forza portante che solitamente provoca il rilascio del chakra del cercoterio. Per quanto riguarda Minato questa cosa non è successa. Minato di per sé non è mai morto per davvero. La sua anima era semplicemente sigillata dello stomaco dello Shinigami. Parlando un attimo della modalità chakra della volpe. Solitamente viene ottenuto dopo aver sottomesso il cercoterio ed estratto con forza il suo chakra. Questo garantisce alla forza portante il potere di indossare questo manto del cercoterio. Ma nel caso di Kurama tutto questo viene fatto contro la volontà del cercoterio. Siccome appunto viene trattenuto con la forza all'interno del corpo della forza portante. Dopo essere stato sconfitto in una battaglia mentale per così dire. Per Minato utilizzare la modalità chakra quasi immediatamente dopo il suo ritorno sul campo di battaglia sembra inizialmente no sense. Era stato resuscitato da pochi minuti. Non si è vista traccia di lui che si prende un momento per sé per soggiugare la volpe a nove code e sottragli il chakra. Vista comunque l'urgenza di entrare in guerra ed aiutare l'alleanza ninja. L'unica spiegazione per quanto riguarda l'accaduto sembra proprio essere nel sigillo del diavolo dello Shinigami. Che potrebbe averli costretti a combattere tra loro per l'eternità. E' probabile che Minato sia riuscito a sottomettere la volpe ed ottenere il controllo del chakra proprio durante questo periodo. Ottenendo essenzialmente la modalità chakra della volpe fase 1. Tuttavia questo non riesce a spiegare come Minato abbia avuto accesso alla modalità chakra della volpe fase 2. O evoluzione 2. La metà di Kurama sigillata all'interno di Minato era inizialmente ostile nei suoi confronti. Non nutriva alcun sentimento per aiutare l'alleanza ninja a sconfiggere Obito. E' stato dimostrato dalla conversazione interna tra Minato e Kurama e dall'utilizzo limitato della modalità chakra della volpe. Ma con lo svolgersi degli eventi, Kurama fu costretta ad allearsi insieme a Minato e Naruto. Ottenendo infine la seconda modalità. Che diventa subito evidente quando Minato e Kurama si trasformano nella loro modalità full cercotereo. Successivamente la parte Yin di Kurama viene trasferita da Minato nel corpo di Naruto dopo che gli viene estratta la metà Yang. Aumentando così la volontà di Kurama nell'aiutare l'alleanza ninja. Ma come è potuto succedere tutto ciò? Il cambiamento di Yin-Kurama può essere dovuto a diverse ragioni. Sebbene comunque la motivazione principale ruoti attorno alla relazione tra Yang-Kurama e Naruto. Difatti vedere la sua metà, lavorare con Naruto e osservare la situazione del loro obiettivo ha permesso a Kurama di rinunciare ai suoi ideali e al suo odio per aiutare l'alleanza. Inoltre Kurama non ha avuto altra scelta se non allearsi con Minato, visto che l'unica altra opzione rimanente sarebbe stata la fine dell'umanità tramite lo Tsukuyomi infinito. Così per dire. Quindi questi eventi riuniti hanno spronato Yin-Kurama ad allearsi con Minato, l'alleanza ninja e Naruto, concedendogli di fatti la seconda evoluzione della modalità chakra della volpe. Questa bene o male era la mia spiegazione riguardante la modalità chakra di Minato. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi concordate con questa teoria o altrimenti fatemi sapere la vostra. Vi ricordo se ancora non l'avete fatto di seguirmi anche qui su TikTok per non perdervi tutti gli aggiornamenti riguardanti i miei video di Naruto. E come sempre se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like che non fa male e noi ovviamente ci vediamo a un prossimo video. Ciao!